Ci siamo, Polifemo, la voce libera della città, venerdì 5 febbraio, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, replica domenica 7 febbraio, ore 14.30, una puntata ricca, ricchissima, bipartita. La prima parte parleremo di marketing territoriale, di turismo, di valorizzazione delle risorse naturali del nostro patrimonio archeologico, storico, cercando di comprendere cosa fanno o non fanno o dovrebbero fare le istituzioni. Lo faremo in casa del BB, albergo La Manna, e come ospiti, veramente ospiti doc, a cominciare dalla padrona di casa, Irene La Manna, titolare del BB suddetto, nonché presidente dell'associazione Taranto Turismo, un consigliere comunale di Taranto, dell'Italia dei Valori, il dottor Ernesto Deri, e due perle, io dico, della imprenditorialità, anzi della autoimprenditorialità tarantina, i titolari della Joan Tur, e mi riferisco a Joseph Di Mauro e Anna De Vincentis. Questo per quanto riguarda la prima parte. Nella seconda parte, invece, parleremo delle piaghe, delle problematiche occupazionali del territorio ionico, a cominciare, parleremo con Franco, con il coordinatore provinciale dell'USB, Franco Rizzo, del futuro dell'ILVA, del presente e del futuro dell'ILVA. E poi saremo con Salvatore Stasi dei Cobas a parlare di una situazione davvero incresciosa, il rischio della perdita del posto di lavoro per numerose unità operanti in una ditta che realizza il servizio di pulizia nell'ambito del servizio AMAT, una situazione anche qui incandescente. Che dire, una puntata ricchissima e allora mettetevi comodi in poltrona, azionate il telecomando Canale 93 del Digitale Terrestre. Evviva l'informazione libera della città, con voi e con Polifemo.